L'ultimo sport a sospendere i propri campionati in ordine di tempo, ma anche il primo a dichiarare ufficialmente conclusa la stagione. L'Hockey su ghiaccio non riprenderà i campionati di Alps League e Italian Hockey League, dove erano impegnate nei play-off rispettivamente Cortina ed Alleghe. Impossibile attendere infatti la data del 4 aprile, considerato che alcune strutture del ghiaccio chiuderanno proprio il prossimo mese. Nessun vincitore ne vinto ed appuntamento a settembre. Le altre discipline invece attendono. Il calcio dilettantistico ad esempio sa di dover terminare la stagione entro il 30 giugno. Arriveranno decisioni drastiche come nell'Hockey oppure si punta a concludere regolarmente i campionati, magari giocandosi nei primi giorni dell'estate? Gli stessi discorsi possono estendersi a basket, pallavolo, calcio a 5 e moltissimi altri sport, al momento fermi a causa dell'emergenza coronavirus. La speranza è tornare presto alla normalità, perché in fondo rivedere dei bambini correre dietro ad un pallone significherebbe riabbracciare la vita di tutti i giorni.